Ciao ragazzi, mi sto allenando come un pazzo, perché il giorno 17 dicembre alle 14.30 sarò anch'io allo stadio Esseneto a giocare questa partita delle leggende dell'Agras contro le All Star Siciliane. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza naturalmente, quindi per questo vi chiediamo una vostra partecipazione, perché solo con l'aiuto della gente si può aiutare altra gente, quindi mi raccomando veniteci a trovare, date il vostro contributo, come sanno fare solo gli egregientini. Un abbraccio a tutti e ci vediamo giorno 17 dicembre allo stadio Esseneto alle 14.30, partitone, io giocherò a una piccola che mi sta allenando per questo. Un abbraccio a tutti, pace, amore, tintoria, vi tuttavia. Grazie a tutti!